Fino al 29 giugno gli enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali, enti riconosciuti dalle confessioni religiose, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o ad un ente di promozione sportiva potranno presentare la propria proposta progettuale per i centri estivi. Si pensa anche quest'estate infatti di attività educative, sportive, ludico-ricreative e laboratoriali da svolgere all'aperto per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 17 anni per 3 ore al giorno dal 4 luglio al 18 settembre. Le aree verdi interessate sono la Villa Comunale Amedeo, Villa Comunale Cordova, Parco Dubbini, Villa Comunale Villaggio Santa Barbara, Parco Robinson, Villa Comunale Monica, piazze e luoghi della città come quartieri del Centro Storico San Luca, campetti sportivi comunali. La richiesta di finanziamento di ciascun progetto, si legge nell'avviso pubblico a Sportello, non potrà superare la somma di 10.000 euro così distinta. Un importo massimo di 9.000 euro per le spese necessarie al pagamento degli operatori, parametrato al numero dei bambini e adolescenti iscritti nella misura di 10 euro cada uno per ogni giorno di presenza e di attività. Un importo massimo di 1.000 euro per la pubblicizzazione, materiale da consumo, affitto bagni chimici e quant'altro necessario all'attuazione delle attività. Le proposte progettuali saranno esaminate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, seguendo due ordini di priorità. L'ordine cronologico di presentazione e l'inclusione dei minori diversamente abili e dei bambini provenienti dall'Ucraina, attualmente ospitati in città. Qui quest'anno l'amministrazione, anche cominciando con fondi propri, in attesa che arrivano i fondi nazionali, abbiamo deciso di anticipare molto questi centri. Le associazioni hanno tempo fino al giorno 29 per presentare i progetti. Iniziamo con questi, dopodiché possibilmente ma sicuramente potremo ampliare ad altre associazioni, anche come tempo, allungare il tempo alle associazioni per i centri estivi. Sono tre anni che gestiamo questa attività e questi progetti finanziati dal comune, dall'assessorato alla famiglia, per poter aiutare questi bambini ad avere un'estate bella, dico io. Bella perché ci sono tantissime, tantissime attività. La cosa importante per noi è gestire e far giocare i bambini negli spazi pubblici e all'aperto.